ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di come fare quest'oggi voglio parlarvi di questa casetta da giardino da utilizzare come deposito attrezzi che ho acquistato per il mio cortile partiamo dal della prima cosa bellissima di questa casetta che è la pavimentazione inclusa quindi io ho preparato semplicemente un pavimento con delle piastrelle da giardino su cui ho appoggiato la base in dotazione con la casetta il montaggio della casetta è estremamente facile sulle istruzioni c'è scritto che va fatto in due io ci ho provato da solo ed effettivamente ci sono riuscito anche perché tutti i pannelli sono ad incastro come potete vedere qui ho iniziato a montare e i pannelli tra di loro si saldano con delle viti quindi con un avvitatore il lavoro diventa davvero facile montati tutti i pannelli laterali li si fissa con queste fasce anche se tutte dotate di viti da avvitare cosa bellissima la maniglia con la possibilità di mettere due lucchetti adesso non badate al disastro che c'è dentro la casetta perché appena finita di montare ho messo dentro tutti gli attrezzi però come potete vedere ci sta già un tagliaerba ci stanno le sdraio ci stanno un paio di scaffali e la cosa bellissima è questa finestrella che permette di mettere a ricovero alcune piante durante l'inverno visto che prima di pubblicare il video ho voluto aspettare attendere un po di tempo per vedere come la casetta reagiva alle intemperie eccetera ve la faccio vedere dopo una notte di pioggia abbastanza forte e ve la faccio vedere anche sistemata un pochettino di più rispetto alla prima volta come come notate qui ho aggiunto uno scaffale di ikea per fare in modo che quest'inverno le piante che io andrò a mettere qui a ricovero invernale ricevano la luce esterna un po di luce la ricevono anche quelle al piano di sotto ho messo il doppio scaffale degli scatoloni che utilizzerò poi la prossima estate l'esdraio il tagliaerba di cui trovate il video sul canale la moto zappa e altre attrezzature varie la casetta tiene benissimo la pioggia non c'è mezza infiltrazione per fortuna e è davvero un'ottima casetta che consiglio e soprattutto risolve molti problemi come sempre vi lascio il link della casetta e altri link utili nella descrizione di questo video se questo video e gli altri video che ci sono sul canale vi sono piaciuti vi chiedo di iscrivervi e di lasciarmi un like questo sicuramente mi sarà di aiuto per poter creare i prossimi video vi ringrazio e ciao a tutti ciao a tutti